Sabato 9 novembre dalle ore 18 a San Marco di Castellavate esiterà la manifestazione Festival di San Martino, musica, zeppole e vino. L'evento si svolgerà nel rione Rocchetta, da via Cuono a via Vicenza e tutti i vicoli connessi. Affare da padrona di casa sarà la tradizione. Tutti i vicoli daranno vita a una propria attività, rievocando vecchie tradizioni familiari come l'antica Sartoria, i vecchi maestri d'Ascia e tanto altro ancora, e riferimenti alla festività di San Martino, come la Casa di Bacco, come la preparazione delle classiche zeppole e vino. Zeppole, che da tradizione rappresentano il simbolo della festività di San Martino, saranno presentate in diverse specialità, dalle tradizionali zeppole con lo zucchero e le zeppole al rosmarino, alle rivisitate zeppole con i peperoni e zeppole con rucola e gamberetti, passando dalle zeppole con le olive alle zeppole al miele e tanti altri gusti ancora, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Lungo il percorso saranno presenti quattro aree musicali, dove ad intrattenere il pubblico saranno non solo Musica, Enrico Enco, Domenico Monaco e il Cantastoria del Cilento, Ulamiento Cacceretta Tata e Present Tense. L'evento, organizzato dall'Associazione Vivi San Marco e patrocinato dal Comune di Castellabate, obiettivo principale della manifestazione è quello di creare qualcosa di originale e caratteristico in un mese difficile e grigio come novembre, dichiara il presidente di Vivi San Marco, Antonio Spinelli. Siamo molto soddisfatti per l'entusiasmo e il consenso ricevuto dalle famiglie residenti nei vicoli del rione Rocchetta. La loro voglia di collaborare ed essere parte integrante di questo nuovo progetto non può far altro che stimolarci per la realizzazione degli eventi futuri. L'Associazione Vivi San Marco vi dà appuntamento il 9 novembre con la manifestazione Festival di San Martino, Musica, Zippo e Vino.